la conferenza stampa è il momento diciamo di terzo momento sono qui intanto a noi l'onorevole Simona Vietina e l'onorevole Maria Teresa Baldini mentre l'onorevole Fuxia Figera è qui tra il pubblico poi ci raggiungerà a sua volta intanto prima di iniziare l'inno d'Italia eseguito dalle bande nazionali dell'Ambima grazie a tutti 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 il premio natale istituito e ideato dalle onorevoli Maria Teresa Baldini e Fuxia Nistoli Frigerald viene consegnato alla Camera dei Deputati il premio natale attribuisce un riconoscimento di merito a coloro persone, associazioni o istituzioni che in Italia e nel mondo portano avanti attivamente le tradizioni e le radici cristiane attraverso il loro quotidiano contributo di idee il loro lavoro la ricerca l'affermazione della bellezza intesa come armonia tra mente, corpo e anima la capacità di trasmettere i valori di civiltà che hanno contraddistinto la nostra storia anche attraverso piccoli gesti e azioni il premio natale sarà protagonista anche di questo terzo step dedicato appunto a questa iniziativa e che avrà protagonisti i presepi d'Italia prima di iniziare a entrare nel merito vorrei un saluto dall'onorevole Simona Vietina e dall'onorevole Maria Teresa Baldini Simona ecco sì buon pomeriggio io ringrazio Maria Teresa per aver pensato a questo festival ringrazio Terre dei Presepi che propone l'itinerario presepiale più grande d'Italia abbiamo parlato oggi di bande quindi del folklore della tradizione abbiamo parlato di presepi abbiamo parlato di piccoli borghi ed io come sindaco di un comune piccolo un comune montano sono fiera di questa iniziativa che riporta alla ribalta quella che è la bellezza italiana la bellezza italiana è fatta delle nostre tradizioni della nostra cultura e della bellezza dei piccoli borghi abbiamo dei paesi che sono diamanti incastonati nella nostra bellissima Italia che hanno tutti quanti tradizioni diverse bellissime che devono essere valorizzate per quanto riguarda il presepe noi abbiamo proposto a settecento anni dalla morte di Dante un presepe dedicato a Dante e l'abbiamo proposto in località Inferno dove a Tre Dozzi è presente un piccolo vulcano una piccola fiamma sempre accesa e proprio il vulcano riscalda la Sacra Famiglia non abbiamo il Buelasinello ma abbiamo solamente i personaggi della Sacra Famiglia fatti in terracotta naturale da un artista locale periodicamente intorno al presepe si sviluppa una polemica la polemica si è sviluppata anche quest'anno lo sapete bene quando la Commissione Europea ha emesso delle linee guida subito ritirate che vietavano l'utilizzo della parola buon Natale l'utilizzo della parola Natale perché si pensava potesse offendere culture diverse ecco io credo che il Natale non debba essere un cartello di una parte o di un'altra politica il Natale deve essere assolutamente quello che è il simbolo delle nostre tradizioni il simbolo della famiglia il simbolo della nostra Italia cristiana cattolica e soprattutto non ci dobbiamo dimenticare che nel rispetto delle idee degli altri non ci dobbiamo dimenticare di far rispettare le nostre idee ecco che quindi io passerei la parola al mio vice sindaco che è collegato proprio dal vulcano a Tredozio è possibile oppure il collegamento c'è ecco mi sentite pronto mi sentite ti vediamo anche perfetto allora sono Lorenzo Bosi vice sindaco di Tredozio e qui con me c'è Parucci Clara del consiglio direttivo della Proloco buonasera quindi vogliamo siamo qui in uno dei luoghi simbolo del nostro paese è appunto il vulcano più piccolo del mondo detto anche buca del diavolo ed è qui appunto che da uno studio insomma del CNR sembra che sia passato anche Dante come ha detto anche l'onorevole Vietina diciamo che abbiamo costruito quindi questo vulcano questa natività a grandezza naturale anche per celebrare Dante e quindi anche per festeggiare la collaborazione con l'associazione Terre di Paese e quindi noi abbiamo creato questa natività costruita appunto in un luogo speciale in un luogo iconico del nostro comune perché a Tredozio la tradizione del Natale è molto sentita e ogni anno la Proloco il comitato dei genitori il comitato dei preseppi tutti i commercianti i volontari danno un contributo fattivo e concreto all'amministrazione comunale per vestire a festa il nostro borgo rendendolo un vero gioiello oltre ai consueti addobbi luminarie la novità di quest'anno è senza dubbio rappresentata dalla natività a grandezza naturale e per questo capolavoro dobbiamo ringraziare il nostro artista locale Luca Ceroni e le sue mani d'oro una natività che come ha detto Simona non ha il bue l'asinello perché il nostro San Giuseppe la Maria e Bambin Gesù vengono scaldati dalle fiamme del nostro vulcanello quindi il nostro desiderio è quello di far conoscere i piccoli grandi tesori di Tredossio a una platea sempre più vasta e quindi è un onore per noi far parte di questa iniziativa invitiamo quindi tutti a venirci a trovare perché Tredossio e le sue bellezze vi aspettano e noi siamo molto felici e onorati di far parte anche di questa conferenza stampa grazie all'onorevole Simona Grazie a tutti beh i complimenti a Tredossio per l'originalità della proposta presepiale che ha proposto che è entrata nel circuito nazionale di terre di presepi che propone come già da tantissimi anni il festival nazionale di mettere in rete l'Italia diffusa appunto attraverso i piccoli borghi attraverso le natività piccoli borghi e natività che sono stati i protagonisti oggi insieme alla musica come ci racconta insieme a tante altre cose l'onorevole Baldini oggi è una giornata un tour de force direi qua alla Camera dei Deputati dove comunque abbiamo non è altro che sottolineare il nostro orgoglio italiano il nostro orgoglio delle nostre tradizioni delle nostre capacità creative in fondo della serenità della nostra serenità che ci ha sempre contraddistinto anche nelle difficoltà e questo ha permesso di sviluppare i presepi i piccoli racconti le piccole cose le piccole statuette insomma nonostante tutto non è stato mai questione credo di soldi di economia ma si è voluto dimostrare che con quei gesti con quelle quotidianità ci siamo riusciti a presentarlo sono stata un giorno qua con il signore a Ponte Dera dove è stata presentata la torre dei presepi insomma ci sono delle regioni oggi siamo un po' una toscanità guarda ecco con grande mio orgoglio perché le origini sono toscana comunque ci sono delle regioni che hanno questa forza questa forza creativa questa forza comunque di non rinunciare mai in qualunque modo in qualunque costo alle proprie alle proprie tradizioni e questo vuol dire essere italiani questo vuol dire portare avanti quello per cui l'Italia è conosciuta nel mondo è conosciuta proprio per queste capacità per questo orgoglio magari per questi campanilismi ma comunque dobbiamo ricordarcelo che l'Italia è un'Italia comunale rimane un'Italia comunale rimane proprio per storia per tradizioni per cultura per per forza anche no? per questa forza che comunque oggi l'abbiamo visto in questa in questa diciamo in queste conferenze stampa quanto siamo apprezzati e comunque nel mondo per questo quanto coloro che escono fuori dall'Italia continuano e forse con più forza ancora perché non vogliono dimenticarsi il modo di fare come fare come comunque rapportarsi come comunque collegarsi con altre realtà continuano a fare questa cosa continuano a mantenerla fortemente e avere e mantenere questo orgoglio e quando possibile questi collegamenti oggi sono venuti qua persone di altissima rappresentanza come il Monsignor Ilari c'è persone che comunque nel mondo hanno dato e hanno continuato questo hanno portato proprio il messaggio di cristianità i valori i valori legati alle nostre radici abbiamo avuto quindi dei rappresentanti internazionali che non hanno altro che fatto confermare che noi per fare le cose bene per poter lavorare ancora con una progettualità concreta fattiva con la quotidianità anche qua in Parlamento vero Simona dobbiamo continuare a non dimenticarci mai di queste radici oggi siamo proprio vicino al Natale quindi vuol dire oggi vuol dire buon Natale vuol dire veramente dire dire questo vuol dire orgogliosamente italiani vuol dire orgogliosamente creativi al punto tale da essere noi protagonisti ancora una volta per questa per questo perché è vero siamo una regione una nazione non così grande ma comunque così creativi e la creatività nasce dal nel presepe c'è tutto nel presepe c'è il simbolo di andare verso una direzione ci sono le capacità di costruire con le statuette abbiamo qua questo presepe avere questo orgoglio del 1956 come uno iniziava a farsi un presepe trovando nel bosco delle cortecce e poi costruendo con della terra con dell'acqua della terra e qualche colore costruirsi della rappresentazione della natività quindi io voglio togliere spazi a chi è venuto qua da così lontano insomma la Toscana ecco oggi oggi dalla Toscana e che continuano con forza a portare avanti la nostra tradizione beh dalla Toscana però con un progetto che sta portando avanti l'intera l'intera Italia l'intera Italia diffusa perché nel 2020 abbiamo costituito l'associazione nazionale delle città dei presepi che sta mettendo in rete tutte le natività attraverso i piccoli borghi attraverso i piccoli centri d'Italia e qui ecco io chiamerei in rappresentanza dell'associazione nazionale città dei presepi un presepista che tra l'altro espone per il secondo anno consecutivo alla mostra dei cento presepi in Vaticano che è Andrea Lavecchia si salve buongiorno e grazie io porto i saluti della presidente Simona Rossetti che non è potuta essere presente oggi quindi diciamo sono io che rappresento l'associazione città dei presepi l'associazione città dei presepi è un'associazione che raggruppa le associazioni di volontariato le parrocchie e anche l'ente pubblico prima si diceva che anche qui bisogna diciamo lavorare in questo senso quindi noi abbiamo creato un'associazione un'associazione di puro volontariato dove ognuno fa la sua parte siamo partiti dal la quarta immagine che capisci dove ci sono un po' i presepi rappresentati alcuni di quelli prego siamo partiti da un'esperienza che era terre di presepi terre di presepi che nasce dalla Toscana dal centro Toscana poi si è espanta in tutta la Toscana dopodiché è nata questa questa associazione l'anno scorso causa pandemia abbiamo avuto e abbiamo fatto vari webinar e siamo riusciti a collegare i presepi quindi tutte le parrocchie o associazioni era anche molto interessante perché spaziavamo nello stesso tempo dalla Sicilia a Fermo dalla Sardegna alla Toscana e così via quindi siamo riusciti a mettere in rete tutta una serie di figure che non sarebbero state in rete perché un'associazione di questo genere non è presente non era presente l'altra cosa interessante è che noi con l'associazione nazionale città di presepi mettiamo in moto tantissimo turismo e quindi mettendo in moto tantissimo turismo nasce anche con la con una sua mission di mettere insieme quindi le attività presepiali con le attività enogastronomiche con le attività di ricezione e ripartire dopo un periodo di sosta forzata organizzati e in sicurezza quindi la nostra associazione è un'associazione che oggi vede diversi comuni che hanno eh dato l'adesione vede molte parrocchie vede molte associazioni di volontariato anche queste associazioni come tutto il volontariato italiano che poi nasce dalla Toscana quindi oggi siamo si gioca in casa è fatto di essere toscani siamo un po' i propulsori delle associazioni di volontariato questo è un volontariato puro in una in questo tipo di volontariato non è non gira diciamo nessun tipo di soldo quindi nessuno eh percepisce o comunque ha la ha la possibilità ha la eh diciamo la possibilità di avere dei soldi in campo questo è il sano volontariato grazie ancora bene grazie Andrea Laveccia e complimenti anche per l'esperienza che portate avanti da un un piccolo borgo che è il borgo di no ma non è lui devo chiamare un altro un piccolo borgo una piccola frazione del territorio di San Miniato che è la parrocchia di Rofia adesso chiamerei il sindaco di Montofoli Valdarno insieme all'onorevole Vietina e all'onorevole Fuxian Nizzo di Frigera perché c'è un piccolo dono che poi sarà consegnato successivamente anche all'onorevole Baldini che introduce un po' diciamo la parte che riguarda diciamo uno dei presepi storici dell'Italia perché c'è un presepe che viene realizzato da 99 anni e allora questo presepe ecco gli autori questo presepe che si trova nel comune di Montofoli in Valdarno ecco sono qui e quindi ne parleremo però intanto per introdurre il tema ecco il sindaco voleva mangiare magari se ci racconta di cosa di cosa si tratta sì stamattina abbiamo parlato del nostro comune delle tradizioni del diciamo di quello che avevamo potevamo offrire ecco tra le cose che potevamo offrire e che sono fanno parte della nostra tradizione ci sono le ceramiche io ne avevo parlato con l'onorevole Baldini quando è venuta a trovarci gentilmente a trovarci gli avevo detto che c'era una fabbrica di ceramiche che ha avuto il suo massimo splendore a cavallo delle due guerre e ha esportato in tutto il mondo i suoi prodotti e diciamo la maggior parte negli Stati Uniti per cui anche il discorso degli italiani all'estero può ricollegarsi a questa nostra tradizione sono le antiche ceramiche di Montopoli che eccole qua io ve ne ho portate un omaggio la tradizione e la cultura locale è veramente una cosa meravigliosa io propongo eventualmente un gemellaggio con Faenza dove c'è il Museo Internazionale della Ceramica è una cosa veramente spettacolare ci teniamo moltissimo perché si tratta di una nostra antica tradizione che viene portata avanti con grande sacrificio ancora da alcuni artigiani insomma lo facciamo con fatica quindi è un dono che noi ci teniamo moltissimo a farlo un'altra lo ringrazio un bellissimo piatto anzi io domani vado a Houston e chissà che non riusciremo magari a promuoverlo anche negli Stati Uniti grazie mille me ne sarei enormemente grata grazie per il nostro territorio che ne abbiamo estremamente bisogno troviamo troviamo gli italiani che vivono emigrati era un bellissimo veramente bello grazie e allora magari Giovanni visto che siamo in tema di cerimonia e si consegniamo anche il piatto all'onorevole Valdini poi si possiamo fare una foto di gruppo ecco e poi proseguiamo con il racconto presefiale e poi una foto tutta insieme altezza ringraziamo l'onorevole Simona Vietina e l'onorevole Insoli che ci salutano perché hanno un altro appuntamento e continuiamo con l'onorevole Valdini il racconto dei presefi in Italia appunto con un presepe che viene realizzato da 99 anni per cui il prossimo anno credo che ci sarà da fare proprio una grande festa per il suo centenario e quindi io chiamerei qua a raccontarci il presepe il patron dei presefisti il coordinatore dei presefisti di un gruppo che comunque lavora tantissimo per diversi mesi e quindi per poter preparare questo presepe che occupa l'intero atrio del Chiostro di San Romano e chiamo qui accanto a noi Paolo Barro Buonasera grazie è un onore per noi essere ricevuti oggi pomeriggio qui nella Camera dei Deputati e premetto che per la mentalità dei nostri presepisti il presepe più piccolo o il presepe più grande per noi sono tutti belli devo parlare del presepe di San Romano naturalmente come diceva Fabrizio ci apprestiamo a festeggiare il prossimo anno i cento anni è una data importante io praticamente sono trent'anni che lavoro su questo presepe di San Romano le grandezze sono circa a trecentottanta metri quadri lavorano lavoriamo dalla fine di settembre al giorno otto di dicembre con ben dodici con ben dodici presepisti che lavorano dalla mattina alla sera è un impegno grande è un impegno grande e questo presepe è costruito in un chiostro del nostro santuario la Madonna di San Romano come dicevo prima è visitabile lungo la navata di questo chiostro e fortunatamente grazie all'opera dei presepe è frequentato e visitato da un numero esagerato di persone e non voglio dire il numero perché ma sono tantissime migliaia e migliaia questo questa costruzione di presepe lo dobbiamo ai nostri frati francescani che già nel 1922 oltre a fare il presepe costruivano anche le statue e ai tempi di oggi ne abbiamo circa una decina datate 1923 il nostro santuario è già in condizioni naturali e visitato da moltissimi fedeli però con l'occasione del nostro presepe siamo balzati anche alla cronaca provinciale e direi anche regionale non aggiungo altro è un presepe tradizionale è un presepe tradizionale esposto a tutte le intemperie vento freddo gelo pioggia e rimane lì come se ci fosse una mano che lo protegge ogni anno i presepisti fortunatamente aumentano aumentano come se avvicinano alla nostra realtà non mi dilungo altro se non che è un presepe dove ci sono tre laghi fiumi di decine e decine di metri e una sacra famiglia sempre incastonata in un ambiente consono abbiamo adottato una tecnica particolare che chiaramente non potevano essere fatte le montagne di cartapesta ma abbiamo trovato un sistema per per ovviare alle intemperie come per esempio facciamo la semina del trifoglio o dell'erba di campo nel momento giusto e a questo punto invito l'onorevole a venirci a trovare grazie per la consegna del premio natale io chiamerei non solo Paolo Varro a nome di tutti i presefisti che realizzano il presepe ma chiamerei anche i re magi che sono arrivati qui in anticipo infatti non hanno il vestito comunque l'anno però non lo possiamo non lo possono esercitare perché ancora non è la loro festa e poi chiamerei anche il sindaco di Montopoli Vardarno Giovanni Capecchi e l'assessore Valerio Martinelli e maggi tutti e tre eh grazie a tutti Poi ecco chiederei al sindaco se può se può concludere poi dopo questo appuntamento chiederei poi anche un saluto all'assessore Valerio Martinelli però io volevo passare poi a questo punto a raccontare un'altra iniziativa che presentiamo quest'oggi e che è stata oggetto eh della precedente sezione per quando abbiamo parlato di San Lorenzo e qui magari si può andare avanti un contributo ci sono due due contributi in questo caso perché eh nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura al verano è stato eh eseguito da un gruppo di artisti quest'anno il calendario dell'avvento presepe in arte la Basilica ospita eh questa iniziativa che è un'iniziativa che nasce da un'altra città nasce da Saminiato allora intanto ecco volevo leggere i nominativi degli artisti se si può andare nella seconda parte delle della slide che hanno composto il presepe in arte che troviamo nella chiesa di della Basilica di San Lorenzo che sono Luca Macchi che ha eseguito la creazione Sauro Mori la stirpe di David Alma Francesca Giovanni Battista Giulio Greco l'angelo dell'annuncio Sauro Mori il sogno di Giuseppe Alma Francesca l'annunciazione l'albero della vita di Luca Macchi l'immacolata di Vilma Checchi gli angeli di Alma Francesca Santa Lucia di Pietro Marchese l'angelo di Arianna Leon la visita a Santa Elisabetta di Vilma Checchi non c'è posto in albergo di Alma Francesca la stella cometa di Bruno Gandola Maria di Rosanna Costa Gesù Bambino di Vincenzo Denti San Giuseppe di Ermanno Poletti il Bue e l'Asino di Lorenzo Terreni il primo pastore di Lorenzo Terreni il secondo pastore di Mimmo Corrado i tre re magi di Rosanna Costa San Francesco di Ermanno Poletti di Papa Francesco di Ermanno Poletti io intanto gli farei un applauso e quello che ecco è visitabile fino al 9 di di gennaio nella basilica per cui può essere l'occasione appunto di conoscere meglio questa vera e propria basilica importantissima di Roma e al tempo stesso ecco immergersi in un racconto della natività attraverso l'arte racconto della natività attraverso l'arte che è anche come dicevo assaminiato sulle 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 finestre del seminario Vescovile qui chiedo se può tornare il contributo con un'altra immagine eccola qua e chiamerei anche Alma Francesca qui aiutarmi a commentare questa iniziativa che lei sta coordinando già da diversi anni ecco il calendario dell'avvento sulle finestre del seminario rappresenta un inserimento di arte moderna all'interno di una struttura storica perché comunque l'affresco del seminario è un affresco del 1703 realizzato da Jacopo Chimenti ed è un'iniziativa unica nel suo genere in Italia e senza dubbio il fatto che sia arrivata già per la seconda volta a Roma perché era già arrivata nella Galleria La Pigna due anni fa per iniziativa dell'Unione Cattolica Artisti Italiani è senza dubbio un elemento che la caratterizza se possiamo andare ecco nella seconda parte della slide volevo citare i nomi degli artisti che hanno realizzato le opere opere che quest'anno hanno un tema che sono i 400 anni della diogesi di Saminiato per cui ci sarà Maria Maddalena d'Austria realizzata da Paola Pini che è quella che ha permesso la nascita della diogesi di Saminiato ci sarà la chiesa del crocifisso opera di Bruno Tamburini poi una serie di vescovi di ritratti vescovini a partire dal vescovo Torello Pierazzi realizzato da Agnese Trinchetti il vescovo del Corona realizzato da Simona Soldaini il vescovo Ugo Giubbi realizzato da Lorenzo Terreni il vescovo Felice Peccaro realizzato da Alma Francesca il vescovo Paolo Ghizzoni realizzato da Giuseppe Lambertucci il vescovo Edoardo Ricci realizzato da Gerardina Zaccagnino il vescovo Fausto Tardelli realizzato da Lori Bagnoli il vescovo Miglia Varga attuale vescovo di Saminiato realizzato da Vilma Checchi le altre opere che compongono il calendario dell'avvento e quindi il presepe in arte sulla facciata del seminario riguardano più prettamente la natività e il presepe quindi abbiamo la visita a Santa Elisabetta realizzata da Lucia Marconcini la stella cometa di Alma Francesca Gesù Bambino di Rosanna Costa Maria realizzata da Saura Simoni San Giuseppe realizzato da Daniela Falanga gli angeli realizzati da Sauro Mori la città di Betlemme realizzata da Silvana Fedi il pastore realizzato da Sandro Caglioli i magi e i pastori realizzati da Lorenzo Terreni e ancora i magi realizzati da Elena Fizzalis e chiederei ecco su questo un commento di Alma Francesca che ha curato in prima persona appunto questa esposizione non è che possa dire granché le cose bene o male sono state dette però una cosa molto importante che bisogna dire di questo calendario è che abbiamo iniziato così in sordina a rappresentare alle finestre mettere sulle finestre del seminario delle opere che riguardassero la vita il cammino verso la grotta a fare visita a Gesù è iniziato piano piano poi è diventata una cosa sempre più seguita difatti è un appuntamento annuale che abbiamo con diversi artisti locali che con tanta umiltà danno il loro contributo perché a volte è anche fatica fare qualcosa che non è il nostro lavoro quindi viene fatto tutto per amore dell'arte per dare un contributo all'arte ecco diciamo che è una cosa che costringe la gente a guardare sulle finestre si guarda e si vedono queste opere che rappresentano il cammino verso la grotta di Bethlehem grazie complimenti volevo però intanto volevo chiamare qui nuovamente Stefano Martì nella veste di presefista se ci puoi raccontare un attimo ecco alcune sue esperienze presefiali in breve intanto però volevo rimarcare un po' un attimo l'attenzione sul discorso con cui abbiamo aperto la giornata di oggi se è possibile avere l'ultimo contributo di slide ovvero il rapporto fra musica e presefi perché stamani insieme all'Anvima abbiamo presentato un primo numero di quello che è un lavoro diciamo di ricerca di mettere in rete tutta quella che è l'Italia a Natale un progetto pilota per la costruzione del calendario nazionale dove si cerca di mettere insieme tutti quelli che sono gli eventi che in qualche modo possano raccontare questo periodo e allora ci siamo messi a contare e l'Anvima ha previsto margando la modalità covid che non gli facilita di certo circa 5.000 tra esibizioni e concerti bandistici nel periodo precedente il Natale fino all'Epifania in più l'esperienza dell'Associazione Nazionale Città dei Presepi porta in dote altri più di 30.000 tra eventi presepi e iniziative intorno al presepi ecco questo vuole essere solo un po' l'inizio di un percorso per coinvolgere anche altri enti altre associazioni e altre realtà sia musicali che presepiali per far sì ecco che la proposta sul Natale sia una proposta organica che parte dai piccoli borghi e che in qualche modo arrivi nel suo insieme a porre l'attenzione su un piano nazionale Stefano Matti ecco se ci puoi raccontare la tua esperienza presepiale in breve allora di nuovo buongiorno a tutti la mia esperienza vi racconto un attimino di come di come è nata l'iniziativa a Castelfiorentino e anche il motivo nella parte un pochino più dimenticata del paese una mattina uscendo dalla messa ci siamo guardati intorno il paese risplendeva sotto un bellissimo sole però era vuoso e allora ci siamo detti perché non provare con un qualcosa che comunque fa parte come abbiamo detto più volte un po' tutti delle nostre tradizioni delle nostre radici cristiane a rivitalizzare un po' il paese è stata una sfida lanciata da tre o quattro persone insieme a me e proprio una scommessa perché non credevamo di arrivare a raggiungere poi quello che stiamo facendo adesso e comunque sono ora a parte il periodo che conosciamo con le difficoltà che ci sono ma comunque si parla di 60 70 luoghi dove vengono costruiti uno o più presepi quindi nell'ambito del paese si arriva a sfiorare i 100 i 100 presepi per noi è stata una cosa veramente sorprendente e ne siamo veramente felici di questo anche perché abbiamo interessato sempre comunque tutti gli istituti scolastici e quindi sappiamo quanto sia importante che i bambini si avvicinino a questa tradizione e la mantengono perché è comunque poi il futuro fanno parte dell'organizzazione un'associazione di volontariato poi l'amministrazione comunale ci dà una grande mano c'è la collaborazione della misericordia della parrocchia però quello che è importante che mi piace sottolineare è che l'iniziativa viene proprio dal popolo dalla gente e le associazioni poi si sono avvicinate nella collaborazione però l'iniziativa è del popolo e questo insomma è una cosa da sottolineare grazie ecco volevo sottolineare a riguardo una cosa che credo faccia da Trendunion assolutamente alla giornata di oggi allora la via dei presepi di Castelfiorentino quando è iniziata si svolgeva tutta nella parte alta del paese che era una zona completamente da rivalorizzare ecco grazie al fatto che la via dei presepi ha portato ogni anno 10, 15, 20 mila visitatori ha permesso poi il fatto che alcune piccole piccole botteghe potessero continuare anche a vivere nella parte alta ma soprattutto ha posto l'attenzione sulla necessità di un rilancio del centro storico tanto che se poi andiamo ora a Castelfiorentino e vediamo ecco un Castelfiorentino nella parte alta completamente a nuovo e se sono arrivati poi i contributi se è stato possibile fare i progetti per restaurare e rimettere in sicurezza e in bellezza tutta la parte alta di Castelfiorentino uno dei meriti sicuramente spetta anche alla via dei presepi di Castelfiorentino sì confermo questa cosa perché ci è stata riconosciuta anche proprio dall'amministrazione comunale non tanto di aver diciamo così risolto i problemi di una parte del paese comunque un po' più complicata ma soprattutto quella di averci attirato l'attenzione perché i visitatori in modo particolare venuti da fuori che comunque sono stati oltre di più rispetto agli abitanti poi del paese stesso l'attenzione di queste persone ha smosso diciamo sì anche un pochino le acque cioè sentirsi dire sempre ma guarda come è bello questo paese e perché non non cerchiamo di rivalorizzarlo non ci assumiamo meriti che non abbiamo però un qualcosina anche questa iniziativa ha portato di buono ringrazio Stefano Matti e credo che il contributo onorevole Valdini sia un po' ecco quello che raccontava Stefano proprio vada nella direzione del percorso iniziato per cercare di mettere tutto a regime quindi la musica i borghi le tipicità i prodotti tipici i presefici cioè tutto alla fine serve perché la piccola Italia l'Italia diffusa possa in qualche modo ecco essere protagonista perché poi alla fine le tradizioni come abbiamo scoperto nella giornata di oggi e il senso identitario stanno proprio in questi luoghi io sono molto orgogliosa che sono riuscita a far passare un emendamento al PNRR al piano quindi nazionale di presa e residenza dove tutti i comuni italiani avranno a disposizione dei fondi per poter portare avanti le tradizioni quindi cultura e tradizioni questo è chiaramente questi soldi è passato nella nostra richiesta è passato quindi con la proposta di legge con il decreto legge e insomma arriveranno questi soldi speriamo che ci sia l'uso buono perché poi tradizioni vedono le tradizioni sperando che ci sia un controllo tale affinché queste tradizioni possano essere continuate anche con una capacità economica che vero sindaco c'è bisogno di avere quindi speriamo che io credo che poi qualcosa di buono ci sarà perché questa pandemia ha portato tanti e purtroppo sta portando ancora tante problematiche ma in questi momenti si vedono le cose vere dalle cose un pochino più più diciamo imbere e quindi quella della tradizione si ripete si ripete e speriamo che ci siano dei buoni sindaci che sappiano portare avanti e spendere bene il denaro che arriverà grazie grazie a tutti buon Natale a tutti scusa Valerio non ti abbiamo ti avevamo segnato sulla scaletta se ci puoi dare un contributo no scusami è anche il sindaco è una nostra dimenticata eh sì no chi è prego silenzio no io vi ringrazio per insomma naturalmente è un onore venire qui alla Camera dei Deputati ringrazio l'onorevole Baldini che insieme a Fabrizio e alle colleghe sono riusciti a organizzare questo momento di presentazione della insomma di un elemento di eccellenza anche del nostro territorio nel Comune di Montopoli abbiamo questo esempio particolare di quasi cento anni che è una storia non banale il prossimo anno festeggeremo il centenario quindi sarà il modo anche di poter rilanciare promuovere una tradizione che nel nostro territorio ha un'importanza fondamentale tradizione che significa tante cose perché il presepe oltre al suo valore simbolico oltre al suo valore legato alla fede come segno diciamo tangibile Papa Francesco aveva nominato il presepe come un Vangelo tangibile un Vangelo scritto nella terra un Vangelo scritto nella realtà il Vangelo che si fa realtà quindi per noi ha un significato senza altro da un punto di vista valoriale senza dubbio riesce anche a vivacizzare il nostro territorio facendo muovere tante persone in visita sul nostro comune ma io colgo l'occasione anche per ringraziare l'onorevole Baldini per questa notizia di cui ci aveva già messo al corrente quando è venuto a trovarci a Montopoli al Conservatorio Santa Marta di questo impegno per l'emendamento all'interno della programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come comune noi siamo assolutamente interessati a valorizzare le nostre tradizioni oggi lei ne ha visto ne ha ricevuto un gentile omaggio da parte del sindaco con un simbolo di nuovo tangibile che è questo piatto della ceramica tradizionale dei terracotte montopolesi che hanno questo stile un po' particolare un po' retro perché non sono antiche ma sono anticate sicuramente perché agli inizi del novecento questo stile aveva fatto molto successo soprattutto nell'oltreoceano quindi negli Stati Uniti è intenzione di questa amministrazione di riprendere questa tradizione ristimolarla e fare attivare anche dei corsi di formazione per invitare i più giovani a poter far ripartire questa cultura questa vera e propria arte del nostro territorio quindi se ci sarà la possibilità noi siamo felicissimi di collaborare rinnovo anch'io insomma e sono convinto che il sindaco già da stamattina gliel'ha fatto li invito a tornare a trovarci anche per vedere il presepe il prossimo anno sarà un anno fondamentale per noi perché cadono tantissimi anniversari uno dei quali è il centenario del presepe ma potrei elencare i centocinquant'anni della nostra misericordia locale così come i cinquant'anni dei donatori di sangue e di presepe insomma ci saranno molti appuntamenti uno dei quali al quale stiamo lavorando è che sarà il prossimo anno il quattrocentonovantesimo anniversario della battaglia di San Romano quindi anche quella sarà un'occasione per rivalorizzare la nostra storia le nostre tradizioni e quindi un'occasione per scoprire ulteriormente Montopoli quindi chiunque è in ascolto e che ci sente vi aspettiamo e grazie quindi quindi sindaco appuntamento a Montopoli appuntamento a Montopoli grazie Valerio per queste ulteriori precisazioni che sono sempre puntuali e precise io credo che debbo ringraziare l'onorevole Baldini che ci ha dato questa opportunità di far capire che cos'è Montopoli non solo noi teniamo ai nostri prodotti peculiari del territorio alla nostra storia alla nostra arte alla nostra cultura ma più che altro mi sembra di essere stato esplicito noi teniamo alle nostre tradizioni le nostre tradizioni come la ceramica come altre tradizioni importanti ma soprattutto siamo venuti per dire che noi teniamo alla tradizione dei presepi del presepe che cosa rappresenta per noi il presepe il presepe come cultura come prima di tutto come religiosità perché è ovvio che è da lì che parte la nostra fede però anche per coloro che non credono il presepe ha un significato importante deve avere un significato importante come cultura come tradizione come valenza storica come dicevo stamani mattina perché insomma da lì la storia è cambiata il presepe come arte e ne è l'esempio del presepe di San Romano che il prossimo anno diciamo celebreremo il centenario e quindi dovremo dare risalto perché se lo merita dare risalto a questo a questo compleanno ecco quindi come arte nel rappresentare la bellezza e nel rappresentare anche la vita quotidiana dell'epoca quindi tutto l'impegno che questi diciamo artisti mettono nel rappresentare proprio la vita e la nascita di Gesù quest'anno direi che può avere anche un altro significato un significato di speranza di ripartenza di ritrovato senso di comunità perché veniamo da da momenti difficili che tutti noi ben conosciamo e poi ci sono i messaggi positivi che il presepe esprime il sentimento religioso il messaggio di pace di fraternità di solidarietà ci fa riflettere sulla nascita dell'uomo e sulla vita sulla centralità della famiglia sulla sull'unità sulla l'umiltà come virtù essenziale e anche sull'accoglienza ecco questo cioè tutto questo rappresenta il presepe quindi sembrerebbe impossibile però secondo me rappresenta tutto questo quindi credo che il presepe sia per tutti e può toccare il cuore di tutti coloro anche di coloro che non non credono quindi credo che questo sia veramente un diciamo un motivo per cui tutti debbono interessarsi debbono venirlo a vedere debbono diciamo capire che è una cosa importante per tutti noi quindi grazie davvero per averci ospitato e certamente vi invitiamo alla alla celebrazione dei cento anni del presepe di San Romano ed anche alla battaglia di la celebrazione che faremo sulla battaglia di San Romano perché la battaglia di San Romano non è stata una grande battaglia è molto famosa per il fatto che ci sono i dipinti di Paolo Uccello per cui tutti conoscono la battaglia di San Romano però nessuno probabilmente sa dove veramente si trova San Romano quindi noi dobbiamo dobbiamo sforzarci per far sì che questo avvenga grazie davvero a tutti beh possiamo dire la battaglia di San Romano è dove c'è un presepe monumentale che ha cento anni e qui chiuderei con un buon Natale a tutti voi grazie grazie buon Natale grazie a tutti